La sua azienda è lambita dall'acqua di Montedoglio ma non è servita? Purtroppo è così, noi non abbiamo l'acqua di Montedoglio, ci corre intorno ma ancora non ci raggiunge. Che cosa significa per chi fa il suo mestiere? Beh, allora, consideriamo che, come io spesso dico, l'acqua è vita. Quindi, soprattutto in periodi come questo, dove il cambiamento climatico porta a lunghi periodi di siccità, il non poter avere l'acqua significa a volte anche problemi gravi. Sicuramente significa non poter fare colture che hanno bisogno dell'irrigazione. La nostra azienda è a prevalente indirizzo zootecnico, però i terreni sono coltivati a foraggi dai quali però è escluso il mais perché chiaramente quello avrebbe bisogno dell'irrigazione quindi non lo possiamo coltivare. Per il resto, grano, orzo, prati che comunque, diciamo, teoricamente non hanno bisogno dell'irrigazione però colture che hanno bisogno dell'irrigazione e comunque colture da rinnovo tipo la coltura del pomodoro che comunque potremmo fare, ci è preclusa. Ecco, come però riuscite a portare avanti la vostra azienda che comunque è in attività? Allora, abbiamo i pozzi, chiaramente, che servono per l'approvvigionamento per il bestiame, che servono ovviamente per la casa. Non possiamo irrigare perché non danno tanta acqua da poterci consentire di irrigare e in ogni caso è sempre un attingimento dalle falde. Siccome una delle conseguenze di questi periodi così siccitosi è anche del consumo di acqua che tra l'altro è aumentato in questi periodi, l'abbassamento delle falde, è evidente che più acqua si estrae dalle falde e più si peggiora la condizione. Pertanto, avere un'acqua disponibile che proviene dalla superficie sarebbe interessante. L'acqua di Montedoglio è un'acqua di grande qualità, tra l'altro, quindi noi avremmo due vantaggi in uno. L'acqua di Montedoglio è usata anche per scopi idropotabili, quindi sostanzialmente la potremmo anche utilizzare per dar da bere agli animali. Quindi rimane da aspettare, ma quanto? Il dilemma è quello, rimane da aspettare, chiaramente non possiamo fare altro che aspettare. La nostra speranza è che la politica destini a questo tipo di investimenti sempre maggiori risorse, perché è chiaro che esistono migliaia di altri canali su cui sarebbe necessario investire, ma questo tipo di investimenti è da ora in avanti, io credo, assoluto. È ormai da anni che gli scienziati dicono che noi stiamo andando verso una tropicalizzazione del clima. Quindi questo significa che avremmo dei periodi di grandi piogge e dei periodi di grandi siccità. Se non riusciamo a immagazzinare l'acqua nei periodi di piogge per poi utilizzarla quando non piove, è evidente che saremmo sempre più sacrificati. Grazie. Grazie.